Andrea, che lo chiamo e poi facciamo la prima cucinale, Aurora, Antonio, Lara, Alicia, dove sei Alessia? Via, Matteo, Tommaso, no, già qua la la metto, non vi preoccupate, te lo vedete, schiacciami. Uno, c'è lei, è pronto, e poi manca Luciana, eccola qua, a tutti l'abbiamo dato, un applauso e presto.